E' stata una tappa dura, devo ringraziare tutta la mia squadra che ha lavorato tutti i giorni per me sono stati tutti fantastici, dopo io stavo bene, l'ultima salita ho provato e è andata bene Era una tattica studiata? No, no, non c'è niente di studiato, in corsa parto con degli obiettivi, sapevo che stavo bene e in salita potevo attaccare e così è stato E in salita cosa hai imparato da Beppe, Guerini? Ma basta andare alla metà di lui e andrebbe benissimo Sei già in formato giro bio? Ma ancora presto, intanto vediamoci questo nel cerdino e qualche tappa, c'è ancora domani che è durissima e può succedere di tutto E vediamo dai, io sto bene, oggi stavo bene e domani speriamo di stare altrettanto Domani pensi di confermarti o temi Bohem che ha avuto un grande aiuto dalla squadra anche oggi? Ma domani è dura, è un altro giorno, io ce la metterò tutta come sempre e se riuscirò a tenere questa maglia, bene Ti ringrazio, ti faccio il mio in bocca al lupo Grazie